Direttamente dalla cameretta magica Oggi 25 di aprile Benvenuti ad un nuovissimo video Da Amazon come potete ben vedere Mi è arrivato un pacco Prima di prendere la zaccagna per poi passare all'unboxing Volevo salutare Tre miei followers Tra cui Ambrogio delle Chiaie Che mi seguo ormai da tanto tempo Deluz2706 E SilviaSan Comunque ora prendiamo la zaccagna E passiamo all'unboxing Che cosa ho preso? Ho preso l'album A volte esagero di Gianluca Grignani Che in pratica è l'ultimo album in studio Che ha fatto il cantante In pratica Un po' di giorni fa E' uscito un nuovo singolo di Gianluca Grignani A Long Goodbye E posso dirvi che come canzone E' veramente veramente bella Comunque Questo album ho sentito qualche canzone su Youtube E posso dirvi che è un bell'album Comunque Contiene 10 tracce Tra cui Non voglio essere un fenomeno Molto bella L'amore che non sai A volte esagero Pure questo è bello Il mostro Madre Rivoluzione Serena Marianne Fuori dai guai L'uomo di sabbia E come un tramonto Comunque il cd L'ho pagato 10 euro Diciamo che come prezzo Ci può stare In ogni caso Che altro c'è stata a dire? E niente Ci vediamo alla prossima